Abbiamo posto al Governo alcune priorità per il Paese su sanità, lavoro, pensioni e il Governo ci ha risposto con un'alzata di spalle e anzi ha sostituito i nostri voti con quelli di Denis Verdini. Noi continuiamo a pensare che ci sia bisogno di discontinuità con le politiche di questi anni.